È sotto osservazione in un ospedale romano la madre del bimbo di due anni, morto ieri a Monte Rotondo in seguito ad una circoncisione. La donna nigeriana, distrutta e sotto shock per la morte del figlio, è supportata da psicologi e continuamente monitorata perché non si verifichino atti di autolesionismo. Non ha ancora visto l'altro figlio, il gemellino del piccolo deceduto, ricoverato in un'altra struttura della capitale. Le sue condizioni migliorano, i parametri vitali a quanto si apprende sono stabili, anche se il bimbo resta ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Intanto è stato arrestato il cittadino statunitense di origini libiche e di 66 anni, ritenuto responsabile di aver praticato l'intervento fatale sui due fratellini. La procura di Tivoli lo accusa di omicidio preterintenzionale, lesioni gravissime ed esercizio abusivo della professione di medico. Questo non sarebbe un caso isolato. Delle 5.000 operazioni di circoncisione che si effettuano in Italia, si calcola che il 35%, circa 1.700, avvengano in modo clandestino, da parte di personale non qualificato e in strutture non attrezzate, con gravi rischi per la salute. I rischi maggiori vanno dalla semplice infezione post-atto della circoncisione, a infezioni importanti e persistenti che possono causare impotenza, la sterilità e poi dalle emorragie per problematiche di coagulazione del sangue. Noi facciamo il nostro appello di far entrare la circoncisione nell'EA. Nell'EA vuol dire autorizzarla, non vuol dire convenzionarla automaticamente. Una disciplina unica nazionale sarebbe auspicabile, visto che le regioni vanno in ordine sparso. Ad esempio in Lazio e Veneto le famiglie di migranti, che scelgono la circoncisione per motivi religiosi o culturali, possono accedere al servizio sanitario pagando tra 250 e 400 euro, mentre in Toscana c'è un regime di convenzione. Costi ancora troppo alti per tanti indigenti, che finiscono spesso in mano a pericolosi ciarlatani, che chiedono tra i 20 e i 50 euro, ma al rischio della vita dei piccoli.